Radio Bruno Brescia mantiene il primato come provincia per quanto riguarda la zootecnia da latte con una produzione che si attesta intorno ai 17 milioni di quintali e un 12% rispetto al dato nazionale quello che preoccupa è il valore del latte alla stalla che è partito a gennaio con un dato molto positivo e sta calando sempre più oggi abbiamo valori di riconoscimento del latte che sono sotto i 50 centesimi al litro non possiamo permetterlo le aziende con questi valori non riescono a sostenersi e stiamo cercando di trovare il modo per combattere queste aziende di trasformazione che nonostante il trend positivo del prodotto trasformato offrono alla stalla invece un prezzo che è assolutamente non remunerativo per i nostri allevatori Sono stati presentati nella sede provinciale di Coldiretti Brescia i dati dell'annata agraria 2022-2023 con attenzione alle dinamiche di mercato e ai cambiamenti climatici Chiaro che se guardiamo il dato finale il riassunto, il totale dei totali segna un più 10% il fatturato delle nostre imprese agricole per cui c'è un segnale positivo però dobbiamo come sempre leggere i numeri a fronte di un fatturato che è aumentato in questo periodo sono anche purtroppo alti i costi di produzione era un problema che c'era già nel 2022 e si è protratto nel 2023 per cui c'è un sano ottimismo nelle nostre imprese agricole però anche c'è un sano realismo di attenzione rispetto ai costi di produzione e rispetto alla preoccupazione delle preoccupazioni ovvero l'endamento climatico che anche se è stato un anno nel 2023 giustamente piovoso preoccupano sempre di più gli eventi estremi che possono essere anche catastrofici Cosa si spera per la prossima annata? Ci auguriamo appunto che ci sia un pochettino più di stabilità anche nei mercati le continue oscillazioni non permettono di progettare troppo rispetto al futuro per cui una stabilità dei mercati sia per le vendite che per gli acquisti e davvero riuscire ad individuare anche quelle forme per attenuare quelle che sono i cambiamenti climatici ovviamente non possiamo opporci a questo però attenuare a qualche cosa mi riferisco in primis al poter accumulare l'acqua magari nei periodi invernali e poterne fare un buon uso nella stagione estiva In occasione della chiusura dell'annata agraria si è tenuto venerdì 10 novembre lo spettacolo teatrale alla carica ragazzi promosso da Coldiretti Brescia e realizzato dalla compagnia teatrale Money Comics per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Allora, è uno spettacolo che tratta il tema delle energie rinnovabili e della pace È uno spettacolo che è nato ai tempi della guerra in Iraq Io, Mauro Camminati e il regista Rolando Tarquini abbiamo pensato di trattare questo tema in modo anche un po' leggero ma di affrontare appunto queste tematiche uno spettacolo che è destinato ad un pubblico di ragazzi ma a un tutto pubblico appunto come dicevo tratta il tema delle energie rinnovabili che è tornato così alla ribalta alla grande e tratta il tema della pace che purtroppo anche questo è tornato come ben sappiamo, visto le guerre in atto proprio qui vicino a noi è tornato tristemente di attualità Due note sullo spettacolo Lo spettacolo è uno spettacolo comico che tratta in modo leggero appunto questi temi Siamo due soldati a bordo di un cararmato che resta bloccato nel deserto in balia del nemico senza carburante per cui questi due soldati un po' pasticcioni ingenui tra mille peripezie, acrobazie eccetera riusciranno a trovare comunque la modalità di cavarsela Il tutto si è concluso con grande successo nella giornata provinciale del ringraziamento che si è tenuta domenica 12 novembre nel comune di Torbole Casaglia Allora l'annata agraria come ogni anno San Martino quest'anno non è l'11 novembre ma comunque siamo vicini a quella data lì e si festeggia la chiusura dell'anno quindi come ogni volta noi a chiusura dell'annata presentiamo i dati di un anno trascorso un anno trascorso in maniera chiamiamola così un po' pericolosa a causa dei cambiamenti climatici e soprattutto delle guerre che hanno reso sempre più incertezza nel nostro mondo e quindi presentiamo un po' quello che è successo quest'anno potrebbe essere un bilancio in chiaro e scuro perché dal punto di vista economico le cose sono andate abbastanza bene però ovviamente con i cambiamenti climatici quindi con i danni alle nostre culture e anche con la guerra che ha fatto aumentare i costi hanno portato spesso i bilanci in negativo la giornata di ringraziamento come ogni anno quindi è quel momento in cui porteremo un ringraziamento di quello che è successo quest'anno perché comunque che le cose vadano bene o vanno male la tradizione ci porta a ringraziare tutti i frutti che sono arrivati dal Signore quindi è un momento di preghiera di silenzio in modo da concentrarci anche su quello che è avvenuto e su quello che dobbiamo fare